A qualche giorno avremo un quadro più chiaro dei numeri di questa stagione ma dai primi indicatori che abbiamo la Puglia si conferma regione assolutamente regina di arrivi e presenze con una spiccata crescita soprattutto di presenze internazionali e questo non può che farci piacere. I numeri non sono stati ancora ufficializzati ma l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane si dice soddisfatto per il risultato raggiunto. Federalberghi Puglia parla di un calo in Salento rispetto al resto della regione con il Gargano che fa il pienone ma Lopane smentisce quel 30% e meno di presenze annunciato ad inizio stagione. I dati si misurano non sulle sensazioni ma su numeri che non solo vanno raccolti ma soprattutto vanno validati. Cosa sta lavorando la regione? Intanto sta lavorando al nuovo piano strategico e con questo quelle che saranno le linee guida che traguarderanno la Puglia per i prossimi anni fino al 2030. Il turismo non è soltanto promozione o comunicazione ma è soprattutto organizzazione e noi stiamo lavorando su questo. I numeri rincuorano pensando a chi ha investito il proprio denaro e speso la propria vita nel settore turistico ma non si può non essere preoccupati per la crisi generale dettata dall'aumento dei costi di energia e gas che hanno travolto anche gli imprenditori balneari. Il periodo è difficile, questi numeri sono stati fatti nonostante un Covid, nonostante una crisi internazionale assolutamente importante e critica, nonostante un rincaro delle materie prime e dei costi dell'energia che mettono seriamente a rischio i conti economici delle imprese. Gli imprenditori, gli operatori del settore vanno ringraziati perché fare impresa, fare turismo in queste condizioni è davvero difficile.